Una corsa contro il tempo che ha sancito in questa fase di grande interesse per la città e le aree interne unità di intenti e massima collaborazione fra tutte le forze politiche per ridare ad Ariano il ruolo di comune guida l'ex primo cittadino Domenico Gambacorta ha ricordato le grandi battaglie del territorio e delle forze politiche per ottenere ad Ariano la stazione Irpinia Credo che sia stata opportuna la discussione di questa sera Credo che abbiamo relazionato però mettendo in evidenza non solo quanto è importante l'opera come cambierà in qualche modo i nostri territori, tutte le zone interne della Campania e della Puglia ma credo che fosse importante anche sottoporre delle criticità che abbiamo raccolto parlando con i cittadini Nel progetto preliminare dell'opera illustrato e recepito nel 2017 si faceva riferimento ad una sottostazione elettrica alimentata in alta tensione nel territorio di Grotta Minarda A distanza di due anni è cambiato tutto e quest'opera verrà realizzata da Ariano Irpino in località Stratola una scelta che è indicata in due righe all'interno di una relazione di 90 pagine da qui la richiesta di ulteriori chiarimenti e di evidenziare una serie di criticità e proposte alla conferenza dei servizi senza interrompere il percorso dell'opera Credo che sia un risultato apprezzabilissimo perché abbia dimostrato tutti un senso di responsabilità rispetto ad un'opera che come è stato detto ed è stato enunciato in più occasioni e in occasione anche di questo Consiglio Comunale è un'opera strategicamente fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!